Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Dalburni ed il Comune di Celle di Bulgaria hanno pubblicato un avviso per l'affidamento in concessione della gestione dell'ostello del Mingardo. La struttura di proprietà del Lente, il parco è titolare anche dei beni accessori, sorge ai piedi del Monte Bulgaria, a poche centinaia di metri dal fiume Mingardo. Si compone di 24 camere, con bagno, area reception, cucina, un'elegante saletta ristorante, ma anche terrazzi e solarium, e all'esterno anche un campo da tennis, un campo da boccia, un'area parcheggio ed un vasto giardino. Un patrimonio immobiliare che il Comune ed il parco intendono ora dare in gestione per attività turistico-ricettive con un contratto ventennale. L'importo complessivo a base d'aste è pari a 34.800 euro annui, 30.000 per l'ostello e 4.800 per i beni del parco. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Già due anni fa i due enti pubblicarono un avviso pubblico per l'affidamento in gestione della struttura. Nel gennaio dello scorso anno il sindaco di Celle di Bulgaria, Gino Marotta, rese noto che c'erano almeno tre imprenditori interessati all'ostello.